Allora riprendiamo flanco questa... no il cocktail, mi hai rotto il cu... cioè tu hai detto dove mangiamo il cocktail? Allora ti rispiego la situazione, il cocktail no, dobbiamo mangiare, ciao! Quanto siete dolci, madonna! Aspetta riprendi l'altra coppia, riprendi l'altra coppia... Quanto siamo dolci? Ancora! Quanto siete belli! Li perdete!